Saccumare la gruona d'or Oh Dio Andrè Mi trovo per il secondo anno consecutivo Siamo qui a Burgio, nella piazza centrale, nel cuore pulsante della piccola cittadina in provincia di Agrigento per raccontarvi la settimana santa, una settimana ricca di passione, di tradizione e soprattutto di preghiera Saremo presenti con le dirette streaming attraverso i canali istituzionali di Burgio del Venerdì Santo e di Movie Stream, quindi l'invito è a iscriversi e a condividere quanto più possibile Saremo presenti, come detto, già da venerdì 23 con la processione del simulacro della Santissima Adolorata portata a spalle per le vie del Paese Ci sposteremo poi a martedì 27 dove saremo presenti per la via Crucis che culminerà con l'arrivo al Calvario Per il Venerdì Santo, la giornata tanto attesa delle 30 sarà una giornata davvero molto ricca già di impegni, sin dalle prime luci dell'alba con la processione delle lettichette la processione dell'urna della Santissima Adolorata per poi arrivare nel pomeriggio con la processione dei paramiti Dunque è davvero una giornata molto intensa quella del Venerdì Santo Ci saremo quest'anno anche per Pasqua con il tradizionale incontro tra il Cristo risorto, la Vergine Maria e San Michele grazie allo staff di Movistream e alla regia di Aldo Abate Vi aspettiamo!